Indubbiamente ci troviamo in un momento senza precedenti nella storia umana in questo momento. Le energie che inondano la Terra si stanno amplificando rapidamente, annunciando grandi cambiamenti per l'umanità e il pianeta. Le antiche profezie parlano di un cambiamento imminente, una transizione verso una coscienza superiore e una consapevolezza dimensionale. Siamo sull'orlo di un evento, un grande salto evolutivo per l'umanità. Molte chiacchiere nei circoli spirituali si concentrano su un'ondata di energia in arrivo dal Sole centrale in questa galassia. Questa trasmissione solare trasporta frequenze e codici altamente avanzati progettati per accelerare il risveglio dell'umanità. I codici prendono di mira il DNA umano, attivando potenziali dormienti dentro di noi. Man mano che più luce si integra nelle nostre cellule, la nostra percezione della realtà si espande. Otteniamo gradualmente l'accesso a dimensioni più elevate di coscienza che risuonano di amore, unità e pace. Questo passaggio di fase alla 5D, facilita il contatto con le civiltà galattiche avanzate che desiderano assistere la transizione della Terra. Siamo sull'orlo della riunificazione con entità conosciute come famiglie stellari, i nostri parenti celesti, provenienti da lontani sistemi stellari. È una prospettiva entusiasmante che promette di approfondire la nostra comprensione delle nostre radici cosmiche, e di esplorare insieme nuove frontiere. Mentre andiamo avanti, impareremo gli uni dagli altri e scopriremo le meraviglie dell'universo come comunità cosmica unita. Numerosi allineamenti celesti, indicatori astrologici e cambiamenti geofisici, hanno corrisposto ad afflussi di energia intensificata sulla Terra. Anche se la svolta finale deve ancora verificarsi, quest'anno, il 2024, ha già portato onde sostanziali e codici solari destinati ad accelerare i preparativi. L'accelerazione è iniziata, il nostro risveglio collettivo si avvicina. Enorme energia in entrata. In questo momento, il nostro pianeta sta ricevendo massicce ondate di luce ed energia in arrivo da fonti celesti e cosmiche. Queste potenti energie contengono codici di luce e frequenze progettati per catalizzare il risveglio, l'ascensione e l'evoluzione sulla Terra. Molti intuitivi descrivono questa energia in arrivo come amplificata, il che significa che contiene frequenze vibrazionali più elevate di quelle che l'umanità ha sperimentato nella storia recente. L'intensità di queste energie, è quella di facilitare un salto quantico nella coscienza, che elevi l'umanità a stati più elevati di unità, luce e amore. Queste energie in arrivo stanno facilitando una purificazione significativa, tracciando il viaggio dell'umanità indietro nel tempo fino a tempi antichi che ricordano civiltà leggendarie. Traumi sepolti, distorsioni ed energia densa del nostro antico passato, stanno ora emergendo in superficie per essere guariti e trasmutati in luce. Questo profondo processo di purificazione sta consentendo all'umanità di andare avanti, libera dalle ombre del passato. Le frequenze in arrivo sono descritte come trinitizzate, nel senso che uniscono e armonizzano i piani spirituale, mentale e fisico. Ricalibrandoci su queste frequenze trinitizzate, i nostri corpi di luce e i nostri vasi fisici, possono allinearsi con la nostra natura spirituale superiore. Ciò facilita l'incarnazione di più luce, e l'attivazione di sensi intuitivi potenziati e consapevolezza multidimensionale. Attraverso la partecipazione cosciente a queste energie, possiamo ottimizzare la riabilitazione del DNA, e gli spostamenti del corpo di luce necessari per ascendere nelle versioni dimensionali superiori di noi stessi. Arrendendoci a questo processo sacro, permettiamo alla luce in arrivo di ristrutturare i nostri campi energetici, corpi e coscienza in linea con la volontà divina. Le onde di luce intensificate, continueranno a trasformare la vita sulla terra. Questo afflusso offre opportunità per una maggiore unità, abbondanza e libertà interiore. Rimani centrato nel tuo cuore durante questo momento potente. Assorbi le frequenze ad alta vibrazione attraverso la preghiera, la meditazione, e trascorrendo del tempo nella natura. Non siamo soli in questo processo. Abbi fiducia che le forze cosmiche benevole stiano sostenendo l'ascensione dell'umanità verso una coscienza superiore. Molte delle nostre famiglie stellari galattiche sono qui per supportarci, e condividere la nostra esperienza. Civiltà avanzate provenienti da Sirio, dalle Pleiadi, da Arturo e oltre, si sono riunite per assistere al risveglio della Terra. Mentre l'umanità si risveglia al suo potenziale più elevato, un senso di unità si diffonde in tutto il mondo, trascendendo confini e differenze. Insieme, viaggiamo verso un nuovo capitolo di esplorazione e crescita, guidati dalla saggezza dei nostri alleati cosmici. Ogni giorno che passa, la nostra connessione con l'universo si approfondisce, e le possibilità di evoluzione collettiva si espandono oltre i nostri sogni più sfrenati. È un momento di grande trasformazione, in cui l'amore e la luce aprono la strada verso una nuova era di illuminazione e armonia. Fai il primo passo verso questo radioso futuro, aprendo il tuo cuore e la tua mente alle infinite possibilità che ci aspettano. Il momento del risveglio è adesso. Siete pronti a fare un passo avanti in questa straordinaria avventura? Ti amiamo teneramente, siamo qui con te, siamo la tua famiglia di luce, noi siamo la Federazione Galattica. A.O., Aurora Ray, ambasciatore della Federazione Galattica.